I carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno chiuso il cerchio dopo nemmeno due mesi di indagini sulla rapina Lampo perpetrata ai danni della stalla a giochi Jackpot di Montegrotto Terme. Arrestati tre ragazzi, due hanno appena 17 anni, il complice ne ha 18. Lo scorso 4 gennaio due malviventi con il volto coperto avevano fatto irruzione nel locale, uno di loro impugnava una pistola. Avevano menacciato il titolare ed erano fuggiti con 2.000 euro presenti in cassa. Fondamentali per le indagini sono state le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Secondo la ricostruzione dell'arma, i due 17 anni erano entrati nella sala slot dopo il sopralluogo del complice che aveva dato il via libera. I carabinieri hanno eseguito delle perquisizioni al domicilio degli indagati, nel corso delle quali sono stati trovati vestiti usati per il colpo. Questi erano ben visibili nelle immagini, così come una borsa che aveva uno dei due, nella quale c'erano dei guanti in lattice e altro materiale inerente alla rapina. Successivamente l'esame delle utenze telefoniche dei tre ha evidenziato la loro reciproca conoscenza. Trovata anche una pistola a semilvera ad aria compressa, priva di tappo rosso. I due minori sono stati sottoposti a ordinanza di applicazione della permanenza in casa, in forza di provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale dei minori di Venezia, mentre il maggiorenne è stato sottoposto alla misura cautelare analoga degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Padova.